moltissime pene totalmente non necessarie ed anche acute sofferenze sono state causate da coloro che ancora continuano ad insegnare al mondo sciocche fiabe su inesistenti spauracchi invece di usare la ragione e il buonsenso l'infondata e blasfema teoria delle fiamme dell'inferno ha fatto più danno di quanto sappiano i suoi sostenitori perché ha fatto danni sia nell'aldilà così come da questa parte ma al presente chi muore potrà incontrare altre persone morte che sono state preparate in modo più assennato e imparerà da loro che non c'è ragione di aver paura e che c'è una vita razionale da vivere in questo nuovo mondo proprio come c'era nel precedente scoprirà gradualmente che ci sono molte novità ed anche cose simili a ciò che già conosce perché in questo mondo astrale i pensieri e i desideri vengono espressi in forma visibile anche se sono composti di materia più fine via via che la vita astrale prosegue questi acquistano sempre più importanza perché dobbiamo ricordare che il defunto si ritrae sempre di più dentro di sé l'intero periodo di una incarnazione in realtà è occupato dall'ego all'inizio nel circondarsi di materia e poi nel ritrarsi di nuovo con i risultati del suo sforzo se all'uomo comune fosse chiesto di tracciare una linea simbolica della vita probabilmente egli disegnerebbe una retta che inizia la nascita e si conclude con la morte ma lo studente di teosofia la rappresenterebbe piuttosto come una grande ellisse che parte dall'ego al suo livello mentale più elevato e finisce per tornarvi la linea discenderebbe nella parte più bassa del piano mentale e poi in quello astrale una porzione molto più piccola in confronto nella parte più bassa dell'ellisse sarebbe sul piano fisico e presto la linea risalirebbe nei piani astrale e mentale perciò la vita fisica sarebbe rappresentata solo da quella piccola porzione della curva che giace sotto la linea di confine tra il piano astrale e quello fisico la nascita e la morte sarebbero semplicemente i punti di intersezione dell'ellisse con quella linea di confine ovviamente non certo i punti più importanti del sistema in realtà il punto più importante sarebbe chiaramente quello più lontano dall'ego il punto di svolta diciamo ciò che in astronomia chiameremmo la felio questo non è né nascita né morte ma dovrebbe essere un punto a metà della vita fisica quando la forza proveniente dall'ego ha esaurito la sua spinta all'esterno e inizia il lungo processo di introversione gradualmente i suoi pensieri si rivolgeranno in alto preoccupandosi sempre meno della materialità fino ad abbandonare definitivamente il pesante corpo fisico il risultato di questo è che passando il tempo egli presta sempre meno attenzione alla materia inferiore con la quale sono composti le controparti degli oggetti fisici ed è sempre più rivolto a quella materia più sottile di cui sono costituite le forme pensiero almeno cioè per come le forme pensiero appaiono sul piano astrale così la sua vita si svolge sempre più nel mondo del pensiero e la controparte del mondo che ha lasciato alle sue spalle svanisce ai suoi occhi non perché egli abbia cambiato la sua posizione nello spazio ma perché il centro dei suoi interessi si è spostato i suoi desideri permangono ancora e le forme che lo circondano saranno in larga parte espressione di questi desideri così che la felicità o meno della sua vita dipenderà principalmente dalla natura di questi uno studio di questa vita astrale ci mostra molto chiaramente la ragione di molti precetti morali la maggior parte degli uomini riconosce che ciò che danneggia gli altri è ovviamente e sicuramente male ma gli stessi a volte si domandano perché dovrebbe essere male provare gelosia odio o ambizione fin tanto che non vengano manifestati come parole o azioni un'occhiata a questo mondo dell'aldilà ci mostra esattamente come tali sentimenti danneggino l'uomo che li alberga e come gli possano causare le più acute sofferenze dopo la morte capiremo questo meglio con alcuni esempi della vita astrale e illustrando le loro principali caratteristiche lasciateci prima considerare l'insipido uomo ordinario che non è né particolarmente buono né particolarmente cattivo né in alcun modo speciale l'uomo non cambia non cambia in alcun modo dopo la morte così la sua mancanza di colori resterà la sua caratteristica principale sempre che la si possa definire così egli non avrà né sofferenze speciali né gioie particolari e probabilmente troverà la vita astrale piuttosto noiosa perché non ha durante la sua vita sulla terra sviluppato alcun interesse razionale se egli non ha alcuna idea al di là del pettegolezzo o di ciò che ha chiamato sport niente oltre i suoi affari o i suoi vestiti è probabile che troverà che il tempo scorre lentamente tra le sue mani quando tali interessi non saranno più possibili ma nel caso di un uomo che abbia avuto forti desideri di un genere di materialità bassa tali che possano essere soddisfatte solo sul piano materiale si è di fronte ad un'evenienza ancora peggiore consideriamo il caso di un ubriacone o di una persona attaccata ai sensi egli è stato schiavo di voglie incontrollabili durante la sua vita terrena che restano invariate dopo la morte anzi ancora più forti di prima poiché le loro vibrazioni non devono più mettere in movimento le pesanti particelle fisiche ma la possibilità di soddisfare questa terribile sete è tolta per sempre perché il corpo solo attraverso il quale avrebbe potuto essere soddisfatta se ne è andato vediamo che le fiamme del purgatorio non sono simboli inadatti per le vibrazioni di un tipo di desiderio tormentoso come questo esso può durare per un tempo abbastanza lungo poiché passa soltanto gradualmente spogliandosene e il destino di quest'uomo indubbiamente è terribile eppure ci sono altri due punti che dobbiamo tenere presenti nel considerare ciò primo l'uomo ha fatto ciò assolutamente da sé e ne ha determinato l'esatto grado della sua intensità e della sua durata se avesse controllato tali desideri durante la vita ci sarebbe stato proprio un minimo di tali sofferenze da patire dopo la morte secondo è il solo modo nel quale può sbarazzarsi del vizio se gli passasse una vita di sensualità ed ubriacature direttamente all'incarnazione successiva egli nascerebbe schiavo dei suoi vizi lo dominerebbero fin dall'inizio e non ci sarebbe scampo per lui ma ora che si è spogliato del desiderio egli può iniziare il suo nuovo cammino senza quel fardello e l'anima avendo avuto una lezione così severa farà ogni possibile sforzo per evitare che i suoi veicoli inferiori ripetano un tale errore tutto questo era noto al mondo sia recentemente sia durante l'epoca classica lo vediamo chiaramente rappresentato nel mito di tantalo che soffre eternamente a causa di una sete violenta poiché è condannato per sempre a vedere l'acqua ritirarsi proprio quando sta per toccare le sue labbra molti altri peccati producono questo risultato in un modo altrettanto raccapricciante sebbene ognuno in base alle proprie peculiarità ad esempio l'avaro soffrirà quando non potrà più ammassare il suo oro quando egli forse saprà che mani estranei lo stanno spendendo pensate come l'uomo geloso continuerà a soffrire per la sua gelosia sapendo che ora non ha più il potere di interferire sul piano fisico percependola ancora più forte di prima ricordate il fato di sisifo nella mitologia greca come gli fosse condannato a spingere una pesante roccia sulla sommità di una montagna solo per vederla rotolare ancora giù nel momento in cui il successo sembrava alla sua portata vedete con quanta esattezza questo rappresenti l'oltretomba di un uomo di smisurata ambizione egli ha trascorso tutta la sua vita a realizzare disegni egoistici e perciò continua a fare questo nel mondo astrale costruisce con attenzione le sue trame fino a che sono perfette nella sua mente e solo dopo si rende conto che ha perso il corpo fisico che è necessario per la loro realizzazione crollano le sue speranze tuttavia così radicata è l'abitudine che continua ancora e ancora a spingere la stessa pietra su per la stessa montagna di ambizione fino a che non si è spogliato del vizio dopo alla fine comprende che non ha bisogno di spingere la sua roccia e la lascia stare in pace ai piedi della collina abbiamo preso in considerazione l'uomo comune e l'uomo che differisce dal comune a causa dei suoi desideri grossolani ed egoistici ora esaminiamo l'uomo che differisce da quello comune nella direzione opposta che ha cioè interessi di natura razionale per capire come la vita dopo la morte gli appare dobbiamo aver presente che la maggioranza degli uomini impiega la gran parte della loro vita da svegli e la maggior parte delle loro forze in lavori che non gli piacciono realmente che essi non vorrebbero proprio fare se non fosse necessario per guadagnarsi da vivere o per mantenere coloro che dipendono da loro immaginate la situazione dell'uomo quando tutta la necessità di questo primente lavoro è finita quando non c'è più bisogno di guadagnarsi da vivere poiché il corpo astrale non ha bisogno di cibo di vestiti o di case allora per la prima volta dalla sua prima infanzia quest'uomo è libero di fare esattamente quello che gli piace e può dedicare tutto il suo tempo a qualcosa che può essere la sua occupazione preferita fino al punto che cioè essa è di natura tale da poter essere realizzata senza la materia fisica supponiamo che il più grande diletto di un uomo sia la musica sul piano astrale all'opportunità di ascoltare tutte le più grandi musiche che la terra può produrre ed è anche in grado sottostando a queste nuove condizioni di ascoltarle molto meglio di prima poiché qui altre più piene armonie sono ora alla sua portata rispetto a quelle che le nostre limitate orecchie possono afferrare la persona appassionata di arte che ami la bellezza delle forme e dei colori avrà davanti a sé tra cui scegliere tutta la ricchezza di questo mondo superiore se la sua passione è la bellezza della natura avrà ineguagliabili possibilità di indulgervi poiché può spostarsi da un posto all'altro prontamente e velocemente ed apprezzare in rapida successione le meraviglie della natura che all'uomo incarnato occorrerebbero anni per visitare se è un appassionato di scienza o di storia le biblioteche e i laboratori del mondo saranno a sua completa disposizione e la sua capacità di comprendere i processi chimici e biologici sarà molto maggiore di prima perché adesso egli potrà vedere sia all'interno che all'esterno delle opere così come sia le cause che gli effetti e in tutti i casi c'è in più la meravigliosa delizia di non fare alcuna fatica è qui che capiamo perché ogni volta ogni qual volta stiamo progredendo nei nostri studi o esperimenti non riusciamo ad avanzare poiché il cervello non riesce a tollerare più di un certo sforzo al di fuori del mondo fisico sembra che non esista alcuna fatica perché in realtà è il cervello che si stanca non la mente fino ad ora ho parlato di pure gratificazioni egoistiche anche se di tipo intellettuale o razionale ma ci sono alcuni di noi che sarebbero soddisfatti solo con qualcosa di più elevato persone la cui gioia più grande nella vita consiste nell'essere al servizio dei propri simili che cosa ha in serbo per loro la vita astrale essi potranno realizzare la loro filantropia più efficacemente di prima e in condizioni migliori che nel piano inferiore ci sono migliaia di esseri che possono aiutare e con una certezza di far del bene molto maggiore di quanto sia abitualmente possibile in questa vita perciò alcuni si dedicano al bene comune alcuni si occupano in particolar modo di amici o parenti sia vivi che morti questo uso delle parole vivi e morti rappresenta una strana inversione dei fatti poiché sicuramente chi è morto siamo noi sepolti in questi grossolani e stretti corpi fisici e chi è veramente vivo sono loro così tanto più liberi e capaci poiché liberi da ostacoli spesso la madre trapassata in quella vita superiore proteggerà ancora il suo bambino e sarà per lui un vero angelo custode spesso il marito morto rimane vicino e in contatto con la moglie afflitta grato se ogni tanto può farle sentire che egli vive accanto a lei con amore forza come in passato se tutto ciò è vero penserete allora di sicuro prima moriamo meglio è queste informazioni sembrano quasi incitare al suicidio di fatto se state pensando solo a voi stessi al vostro piacere paradossalmente è così ma se pensate ai vostri compiti verso dio e verso i vostri simili allora capirete subito che quel punto di vista non è più valido voi siete qui per uno scopo uno scopo che può essere raggiunto solo sul piano fisico l'anima deve attraversare così tante difficoltà e passare attraverso così tanti limiti per guadagnarsi questa incarnazione terrena che non si possono sprecare inutilmente gli sforzi l'istinto di autoconservazione è stato impiantato nel nostro petto per opera di dio ed è nostro dovere fare del nostro meglio in questa vita terrena per conservarla finché le circostanze ce lo permettono ci sono lezioni che devono essere apprese su questo piano che non possono essere comprese in nessun altro luogo e prima le capiremo prima saremo liberi perfino dal tornare ancora in questa vita inferiore più limitata perciò che nessuno osi morire finché non è giunta la sua ora anche se quando sarà il momento potrà gioire nel passare dalla fatica al ristoro e tuttavia tutto ciò di cui vi ho parlato fino ad ora è insignificante di fronte alla gloria della vita che segue ovvero la vita del paradiso questo è il purgatorio quella è l'eterna benedizione cantata dai poeti e sognata dai monaci niente affatto un sogno ma una realtà viva gloriosa la vita astrale è felice per alcuni infelice per altri a seconda della preparazione con cui vi sono giunti ma ciò che segue è felicità perfetta per tutti esattamente forgiata per i bisogni di ognuno ora prima di concludere questo capitolo consideriamo una o due domande ricorrenti riguardo all'aldilà potremmo fare progressi là alcuni chiedono senza dubbio perché il progresso è la regola dello schema divino per noi questo è possibile sempre in relazione al nostro livello evolutivo l'uomo che schiavo del desiderio può progredire solo spogliandosene ciò è il massimo che può fare a questo stadio ma l'uomo gentile e desideroso di aiutare impara in molti modi attraverso il lavoro che può svolgere nella vita astrale egli ritornerà sulla terra con molti più poteri e qualità a causa della sua pratica altruistica dunque non c'è nulla da temere riguardo alla questione del progresso un altro punto spesso sollevato è saremo in grado di riconoscere i nostri cari trapassati prima di noi sicuramente sì poiché né loro né noi saremo cambiati dunque perché non dovremmo riconoscerli l'attrazione è ancora lì e agirà come un magnete per riunire coloro che la sentano la sentono più prontamente e sicuramente che non qua di fatto se il nostro caro ha lasciato la vita terrena molto tempo fa egli può essere già andato oltre il piano astrale ed essere già entrato nel paradiso che in questo caso dovremmo aspettare finché anche noi avremo raggiunto quel livello ma quando arriverà quel momento noi saremo insieme a lui in modo così perfetto certo al di là di quanto possiamo immaginare in questa casa prigione ma siamo certi di una cosa che non abbiamo perso i nostri amati se sono morti di recente li ritroveremo sul piano astrale se sono morti da più tempo li ritroveremo in paradiso ma dove esiste l'affetto il ricongiungimento è certo poiché l'amore è una delle forze più potenti dell'universo sia in vita che in morte c'è una infinità di informazioni interessanti su questa vita superiore in particolare vi consiglio di anni besant that and after e i miei libri il piano astrale e l'altro lato della morte vale la pena approfondire questo argomento perché la conoscenza della verità allontana tutte le paure della morte e rende la vita più facile perché ne conosciamo il significato e la sua fine la morte non porta sofferenza ma solo gioia per coloro che vivono una vita sincera ed altruistica gli antichi latini lo affermavano letteralmente morse iano a vita ovvero la morte è la porta della vita ciò esattamente quello che vuol dire una porta in una vita superiore e più completa dall'altro lato della la tomba così come da questo domina la grande legge della giustizia divina che noi crediamo agisca sia qui che là sia per noi che per i nostri cari grazie a tutti